a buongiorno buongiorno a tutti da parte di Maurizio siamo giunti a sabato 19 di luglio e bentornati al programma napoletano dedicato alla favolosa musica napoletana oggi ci troviamo cari amici in duplice trasferta io Maurizio mi trovo esattamente da grande Cis al centosettantacinque di Milvan Drive e la nostra carissima Fernanda si trova nella seconda trasferta di oggi e bene sì andiamo a scoprire non voglio svelare il mistero voglio che Fernanda lo faccia e allora andiamo a chiamare subito la nostra cara Fernanda e ci dice dove si trova buongiorno cara Fernanda buongiorno Maurizio gentilissimo questa mattina un buongiorno a tutti voi in ascolto da Fernanda saluto già in regia mi sei mai ecco qui con me con Jane e abbiamo ascoltato il grande artista della splendida musica napoletana Enzo di Napoli con la canzone preghiera e bene sì siamo giunti alle ore 9 0 8 buongiorno da parte di Maurizio a tutti i radioascoltatori di cin em 15 40 allora ci troviamo oggi come avete sentito prima in doppia trasferta la carissima fernanda si trova da greystextiles io Maurizio mi trovo esattamente da grande cheese nella sede originale al 175 di mil van drive zona di dunsbue e weston road questa è la sede originale come dicevo e oggi va in scena la grande festa dei prodotti grande cheese e per i grandi risparmi quale modo migliore per imbandire le vostre tavole oggi ricordo che con una spesa minima di 60 dollari riceverete una ricotta di 400 grammi in omaggio in tutti i negozi grande cheese degustazione di diversi tipi di formaggi la pizza il prosciutto il tiramisù le lasagne la pasta al forno e tanto tantissimo altro e andiamo a vedere in questo splendido e grande negozio un po di offerte che oggi in occasione del remote di cin radio loro offrano per esempio il formaggio fresco grande due per dodici dollari oppure i passiti grande quattro per soli dodici dollari la ricotta grande cheese da 650 grammi due per soli nove dollari e per gli amanti della fior di latte fior di latte marca grande 3 99 la confezione formaggio frulano grande grande forma intera per soli 29 dollari e poi per gli amanti ci sono i bocconcini bocconcini grande mezzo chilo per solo 5 99 oppure abbiamo anche la prosciutto san daniele riserva 9 99 la libra anziché il prezzo originale era 15 e 99 io vi invito a venire per un caffè espresso per venirci a trovare per approfittare degli strepitosi specials che questo grande negozio da sempre offre questo negozio gli amici di grande cheese sono amici di tutta la comunità dei tanti da tantissimi anni e quindi offrano sempre prodotti di prima qualità e i prezzi migliore venite a trovarci e adesso continuiamo con la musica napoletana arriva una canzone scritta da edoardo de filippo a voce mia bellissima canzone a voce mia questa splendida canzone inizia con una bella poesia dedicata a sergio bruni buongiorno buongiorno ancora una volta da parte di maurizio il cielo è coperto ma sono sicuro che il sole spunterà perché qui dentro a grande cheese per esempio il sole è già spuntato nella postazione di fernanda sicuramente con lei lì a fare il remote live sicuramente splende un ottimo sole quindi perché non venirci a trovare in tutte e due le postazioni passate il sabato insieme a noi ascoltandoci e magari anche venendo a prendere un caffè prima da fernanda perché la precedenza va sempre alle donne e poi potete venire qui a trovarmi da grande cheese e adesso io invece volevo mandare una canzone una splendida canzone di pietra monte corvino che si chiama come facette mammata ma prima un po di pubblicità e abbiamo ascoltato la splendida voce di pietra monte corvino piet con la canzone come facette mammata pietra monte corvino che sta arrivando cari amici sta arrivando perché l'icey saving presenta la cindence taranta cindence taranta the woman of taranta le musiche scatenate dalla calabria dalla puglia e da napoli appunto con pietra monte corvino le muse del mediterraneo e l'orchestra del sud due spettacoli al mississaga italfest il nove agosto e al woodbridge rotary club rib fest il dieci di agosto cindence taranta ricordo è sponsorizzato da icey adesso continuiamo con la splendida musica napoletana arriva e abbiamo ascoltato questa musica che ci fa ballare il cia cia napoletano la canzone cantata da mauro angelo mauro angelo che nacque artisticamente ben venticinque anni fa e lui pensate voi ha iniziato la sua carriera facendo il batterista quindi complimenti a questo grande artista napoletano e io vi devo ricordare una partita speciale che andrà in onda praticamente a toronto lunedì lunedì non perdete al bimo field le vecchie glorie dell'italia contro le vecchie glorie del portogallo al bimo field alle ore 8 di sera si giocheranno appunto che si giocherà questa sfida ricordo fra i tanti campioni presenti ricordo uno dei più grandi giocatori italiani il re del calcio italiano è soprannominato ebbene sì robibaggio robibaggio sarà in campo mi raccomando non perdete robibaggio che nacque a col caldonio in provincia di vicenza e vi ricordo tante presenze per esempio eh e tanti gol nella sua carriera iniziò nel vicenza con 47 gol poi nella fiorentina ha giocato tanti anni segnando ben 136 gol ma tanti di voi lo ricordano nella juventus a partire dal 1990 fino al 1995 con ben 200 gol e 115 presenze poi passò al milan nel 1997 è stato tre anni nel milan con 61 gol ehm 67 gol totali e poi passò addirittura all'inter quindi cambiò sponda milanese eh 61 gol totali in tre anni di inter e poi ovviamente passò al Brescia dove stedeva per quattro anni al Brescia segnando tantissimi tantissimi gol quindi non perdete questo grande campione ricordo Italia contro Portogallo vecchie glorie al Bimo Field lunedì 21 alle ore 8 di sera e adesso continuiamo con la splendida musica napoletana arriva Sim Napoli Paesà di Roberto Murolo e abbiamo ascoltato Roberto Murolo con la canzone Sim Napoli Paesà Roberto Murolo che nacque a Napoli il 19 gennaio del 1912 per poi spengersi sempre a Napoli il 13 marzo del 2003 è stato un grande cantautore anche un chitarrista e un attore italiano Roberto Murolo appunto ha portato eh è stato registrato c'è una curiosità sulla quando nacque la nascita viene viene registrata viene registrata quattro giorni più tardi il 23 e lui era il penultimo dei sette figli di Lia Cavalli e del poeta Ernesto Murolo e adesso io vi voglio ricordare l'appuntamento di oggi oggi siamo in doppia trasferta Fernanda come detto da Grande Textiles e io mi trovo esattamente in un altro grande negozio se possiamo usare questo termine Grande Cheese esattamente alla centosettantacinque di Milvan Drive per approfittare degli strepitosi prezzi io vi ricordo che Tony è già pronto ha già acceso il barbecue quindi vi ricordo fra poco barbecue con salsicce e spiedini a disposizione di chi ci verrà a trovare mi raccomando la giornata secondo me uscirà il sole prima o poi eh perché il cielo è solamente velato anche Peter dice di sì quindi l'appuntamento è giusto alla da Grande Cheese esattamente al centosettantacinque di Milvan Drive volevo solo dire che prego Peter si non è viola sarà turchino ah il cielo non è viola ok va bene via per me per me è sempre viola il cielo però insomma e dopo queste dichiarazioni di Peter andiamo con un'altra favolosa canzone napoletana arriva Riccardo Antonelli con Surriente innamurate e abbiamo ascoltato Rusella e Maggi cantata da Mauro Nardi la musica di questa canzone venne composta da Enrico Cagno famosissimo musicista della musica napoletana ebbene sì buongiorno buongiorno ancora una volta da parte di Maurizio sono le ore nove e quarantotto oggi doppia trasferta come avete sentito prima anche dalla splendida voce di Fernanda che si trova da Grace Textiles un saluto a tutti i cari amici di Grace Textiles da Letizia in particolare e speriamo che Fernanda mi porti il regalo che Grace Textiles offre oggi io mi trovo nell'altra trasferta di oggi l'altra grande trasferta se posso usare questa parola perché mi trovo esattamente da grande cheese al centosettantacinque di Milvan Drive zona di Downsview e Weston nella sede originale oggi tantissime offerte come per esempio con una spesa minima di sessanta dollari riceverete una ricotta di quattrocento grammi in tutti i negozi grande cheese come sempre degustazione di diversi tipi di formaggi ci abbiamo il barbecue già acceso con salsicce e spiedini e poi tanti assaggini di pizza prosciutto tiramisù la pasta e tantissimo altro vi ricordo che però per ogni spesa pari o superiore a 90 dollari venite qua spendete 90 dollari riceverete due biglietti per Milan Olympiacos la partita che si giocherà al Vimo Field giovedì 24 alle ore 8 di sera ricordo Milan contro Olympiacos e inoltre vi vado ad elencare alcune delle tantissime offerte che il grande cheese sempre offre per esempio la pasta Federici dall'Italia confezione da cinquecento grammi solamente settantanove centesimi il caffè Lavazza confezione da un chilo sedice e novantanove e poi la pasta senza glutine di Aldi confezione di cinquecento grammi solamente tre e novantanove al pacco anziché quattro e novantanove i pomodori italiani menu pomodorina barattolo al barattolo tre e novantanove anziché sei e quarantasei quindi un grande risparmio grande grana padano nove e novantanove la libra e poi anche le costolette di maiale affumicate del del fresh per soli quattro e novantanove la libra inoltre ricordo la pizza la pizza party size per ogni evenenza appena sfornata con tre toppings costerà solamente diciannove e novantanove la pizza la potete scegliere ovviamente qua o anche ordinandola se avete un evento speciale quindi io vi ricordo venite barbecue espresso biglietti per milano olimpiacos dovete assolutamente non perdere questa giornata dagli amici di grande cheese esattamente al centosettantacinque di milvan drive e adesso continuiamo con la musica napoletana con la canzone marracumanno di mauro caputo ma prima un po di pubblicità ocean view pario doors con oltre 40 anni di esperienza è senza dubbio il migliore venditore di porte scorrevoli le porte marracumanno cantava così mauro caputo un artista di eccellenza del panorama musicale napoletano che negli anni 70 e 80 era apprezzato per la sua timbrica vocale molto calda e passionale ebbene sì siamo in chiusura anche per questo sabato del programma dedicato alla musica napoletana sono ore 9.56 il cielo è coperto ma la giornata si rischiarerà tutto quindi venite a trovarci perché il sole verrà fuori il sole c'è già qui all'interno della nostra trasferta e sicuramente c'è anche dalle parti dove è fernanda e chiudiamo il programma napoletano di questo sabato con una bellissima canzone di maria nazionale natazza e caffè ed abbiamo ascoltato mambo italiano ad aprire questa seconda ora insieme seconda ora insieme a maurizio da una parte e fernanda dall'altro remote di cin radio buongiorno ancora una volta sabato 19 di luglio siamo giunti alle ore 10 e 0 5 minuti per un sabato tutto italiano un sabato musicale completamente italiano con trasferte assolutamente italiane la giornata è coperta ma la temperatura è accettabilissima quindi venite venite a trovare me qui da grande cisa ma soprattutto andate a trovare la nostra carissima e bellissima fernanda che si trova da grey steak styles cara fernanda come va ok maurizio qui vicino a me messi con mike che sta facendo ti sta imitando un abbraccio tentando ecco a mi sta imitando a ok va bene brava va benissimo è così siamo in diretta siamo live tutto è concesso e io mi trovo proprio qui da grey steak styles il negozio di tutta la famiglia al 3200 di stella savoni west angolo con jane e ci stiamo prendendo un bel caffè tutti quanti insieme perché qui potete venirvi a fare un ottimo express bella canzone di franco battiato semmai ebbene sì siamo all'interno della seconda ora insieme seconda ora insieme a maurizio e a fernanda maurizio si trova esattamente dagli amici di grande cisa nella sede storica nella sede originale al 175 di mil van drive zona di dynesview e western road oggi ricordo che con una spesa minima di 60 dollari riceverete una ricotta di 400 grammi in omaggio ed inoltre per una spesa pario superiore a 90 dollari riceverete gratis due biglietti per la partita di giovedì milan contro olimpiaco salbimo field giovedì 24 alle ore 8 vi ricordo appunto questa grande partita ed inoltre grandissime offerte come sempre dagli amici di grande cisa per esempio il formaggio fresco grande due per soli 12 dollari i passiti grande quattro per soli 12 dollari ricotta grande cisa da 650 grammi due per nove dollari fior di latte grande 3 99 la confezione ed inoltre i bocconcini grande da mezzo chilo solamente 5 99 poi per gli amanti del prosciutto c'è il prosciutto san daniele riserva 9 99 la libra anziché 15 e 99 tantissimi prodotti come la pasta la pasta federici da 500 grammi solamente 79 centesimi una pasta che arriva direttamente dall'italia e inoltre il caffè lavazza da un chilo 16 e 99 tantissime offerte come anche sulla pizza party size avete una festa da celebrare a un compleanno una ordinatela da loro a solo 19 e 99 sono 40 spicchi di pizza fette di pizza quindi insomma per soli 19 e 99 da scegliere in vari toppings inoltre vi ricordo di venirci a trovare caffè espresso e il barbecue con tonic è già acceso da un'ora con salsicce spiedine quindi venite perché no a farvi un bel panino al barbecue panino con la salsiccia io vi rinnovo l'appuntamento venite a trovarci da grande cisa al 175 di mil van drive e adesso continuiamo con la musica arriva lucio battisti ma prima un po di pubblicità splendida canzone di alessandra amoroso non devi perdermi ed io io maurizio mi riesco agli auguri che ha fatto fernanda per il nostro giai buon compleanno giai che sia una giornata fantastica per te e allora io vi devo ricordare a proposito dei compleanni se andrea bartali fosse ancora vivo oltre ieri esattamente il 18 luglio avrebbe compiuto 100 anni quindi tanti quotidiani hanno fatto gli auguri virtuali anche se purtroppo gino bartali non non c'è più quindi avrebbe compiuto 100 anni ieri e un grande ovviamente gino bartali 100 anni di salite di successi duelli e vittorie grande imprese sportive e umane come l'eroica staffetta con i documenti di centinaia di ebrei che salvò dall'olocausto che li valse il titolo di giusto fra le nazioni durante la festa del suo ultimo compleanno ricorda eugenio giani mi disse che il suo sogno era un museo dedicato alla bicicletta ebbene sì quel sogno lo abbiamo realizzato nel 2005 e questo museo del sulla bicicletta è ora diretto da andrea bresci gino è stato e non è solo il più grande atleta nello sport moderno ma uno degli interpreti più autentici dell'anima caratteriale e dello spirito del vero fiorentino questo è il ricordo di eugenio giani per gino bartali e adesso noi invece continuiamo con la favolosa musica italiana arriva eugenio finardi con dolce italia ivano fossati con la canzone conosciuta da tutti la mia banda suona il rock alle ore 10 e 36 minuti la sintonia è giusta cine m 15 40 mi raccomando il consiglio utile della giornata il consiglio utile di maurizio lo sapete che cosa è andate a trovare fernanda da grestex styles con la grattugia in omaggio e poi con la grattugia cari amici cosa dobbiamo fare a cosa serve ma serve per grattare il formaggio e quindi dopo essere stati da fernanda dovete per forza venire a comprare il formaggio qua dagli amici di grande cheese esattamente al 175 di mil van drive zona di dines view per approfittare veramente delle strepitose offerte su formaggi e su e non solo c'è anche il barbecue tantissime persone stanno arrivando barbecue con salsicce e spiedini quindi mi raccomando fra poco ci avviciniamo piano piano all'ora di pranzo venite da grande cheese a trovarci al 175 di mil van drive e adesso caro giai torniamo alla musica arriva lei la bellissima laura pausini con la canzone bastava e abbiamo ascoltato le muse del mediterraneo con tarantella popolare stanno arrivando stanno arrivando perché come tutti ormai voi sapete l'icee saving presenta cinden staranta cinden staranta the woman of taranta le musiche scatenate dalla calabria dalla puglia e da napoli con pietra monte corvino le muse del mediterraneo e l'orchestra del sud due spettacoli al mississauga italfest il 9 di agosto e al woodbridge rotali club rib fest il 10 di agosto cinden staranta è sponsorizzato da icy saving e io vi devo dire che siamo oggi in trasferta dagli amici di grande cheese esattamente alla 175 di mil van drive per approfittare delle strepitose offerte saluto alessandro polvi che è venuto a trovarci buongiorno alessandro oggi ricordo che con una minima spesa di 60 dollari riceverete una ricotta di 400 grammi in omaggio e inoltre in tutti i negozi grande cheese ricordo grandi assaggivi di formaggi oggi abbiamo anche il barbecue con spiedine costolette di agnello spiedini di agnello e costolette veramente incredibile e ricordo che oggi per una spesa pari o superiore a 90 dollari venite qui da me con lo scontrino riceverete subito due biglietti per la grande partita milan contro olimpiaco di giovedì 24 alle ore 8 al bimofield ma andiamo a vedere intanto alcune delle tantissime offerte che grande cheese da sempre offre alla comunità italiana e non solo io vi ricordo che il formaggio fresco grande due per soli 12 dollari oppure i passiti grande quattro per soli 12 dollari anche la ricotta grande cheese da 650 grammi due per solamente nove dollari fior di latte grande 3 99 la confezione ed inoltre per gli amanti della pasta c'è la pasta federici direttamente dall'italia confezione da 500 grammi solamente 79 centesimi oppure la pasta senza glutine marca di aldi confezione di 500 grammi solamente 3 99 al pacco anziché 4 e 99 inoltre trovate pomodori italiani imbarattolo il grana padano le costolette di maiale affumicate e tantissimo tantissimo altro anche la pizza party size vi ricordo 40 toppings scusate 3 toppings 40 fette solamente 19 e 99 questo è tutto e tantissimo altro è disposizione qui dagli amici di grande cheese esattamente al 175 di milvan drive e adesso siamo in chiusura della seconda ora insieme la chiudiamo con una bellissima canzone di emma dimentico tutto ma prima un po di pubblicità a più tardi monasteri e abbiamo ascoltato la splendida interpretazione della canzone perdono di tiziano ferro buongiorno ancora una volta da parte di maurizio sono le ore 11 e 4 minuti primi ebbene si andiamo siamo in doppia trasferta oggi vi ricordo io da grande cheese esattamente al 175 di milvan drive ma la nostra carissima fernanda sicuramente sta spopolando dagli amici di grey steak styles andiamo a sentirla ciao cara fernanda eccomi qua maurizio ma dimmi un po ma tu stai mangiando perché so che no ancora no ancora no il barbacchio ancora non è pronto no è pronto tanta gente sta già mangiando ma io sono ancora nel periodo del caffè fino a mezzogiorno va benissimo esatto e noi invece siamo in buona compagnia non solo dei rappresentanti che fanno cadere tutto ma anche delle belle signore boom boom a cantare avete ascoltato la voce di rene grandi ebbene si da una fiorentina cioè rene grandi passiamo ad un fiorentino maurizio che si trova oggi nella seconda trasferta di oggi come detto da stamattina fernanda fa la maratoneta fa la maratona lì in quel di grey steak styles io maurizio mi trovo dagli amici di grande cheese esattamente al 175 di milvan drive per approfittare delle strepitose offerte che da sempre questo fantastico negozio i suoi fantastici negozi perché sono più di uno e più tardi ve lancherò tutte le sedi oggi siamo nella sede originale e oggi vi voglio parlare per esempio in questo momento del super special per quanto riguarda la pizza party size appena sfornata con tre toppings 40 40 fette ogni pizza oggi la offrano a solamente 19 e 99 oppure la pizza al metro con tre toppings per soli 34 e 99 noi italiani ci piace tanto la pizza se abbiamo un party una festa una cerimonia da festeggiare perché non ordinare proprio da noi questa pizza party size ordinarla è facile basta chiamare il 416 7 4 0 8 8 8 8 3 e loro sicuramente ve la faranno proprio su misura quindi venite a trovarci anche per questa cosa e prenotate la pizza party size inoltre ricordo gli altri negozi di grande cheese al 468 di jevram drive a sud di langstaff al 97 37 di young street a richmond hill e al 22 di orfus road e inoltre anche a mapple al 99 29 di kill street e al 551 di city view boulevard a bonn e noi venite a trovarci perché noi oggi siamo nella sede originale di grande cheese al 175 di mil van drive e adesso torniamo alla musica italiana arriva malika yen la splendida voce di malika yen con la canzone dal titolo la prima cosa bella e bene siamo giunti alle ore 11 e 17 diamo il buongiorno a stefano rezza che è venuto qui a trovarci quindi buona giornata a te stefano e io mi devo parlare a proposito di stefano rezza l'uomo sportivo della coppa del mondo dopo la vittoria della germania che ha conquistato la sua quarta coppa del mondo raggiungendo proprio la nostra nazionale italiana a quattro coppe vinte ecco il palmeras per quanto riguarda questa competizione al primo posto troviamo ovviamente il brasile con cinque trionfi nel 58 nel 62 nel 70 nel 94 nel 2002 al secondo posto come detto italia e germania pari merito a quattro coppe del mondo e l'uruguay e l'argentina seguono al terzo posto con due vittorie ottenute per quanto riguarda l'uruguay nel 30 e nel 50 e per quanto riguarda la nazionale argentina nel 78 e nell 86 ebbene sì adesso continuiamo con la musica italiana renato zero ma prima un po di pubblicità il trio silvestri fabi gazzè con la canzone life is with alle ore 11 e 30 minuti primi ebbene sì oggi doppia trasferta come ampiamente detto fernanda si trova dagli amici di grace textiles io mi trovo qui dagli amici di gram de cheese esattamente al 175 di mil van drive il barbecue è acceso le salsicce sono pronte anche gli spiedini di agnello e le costolette venite a trovarci perché per ogni spesa pari o superiore a 90 dollari riceverete due biglietti per assistere alla partita di calcio milan contro olimpiacos giovedì 24 alle ore 8 al bimo field quindi venite qui a trovarci grande cheese il nome giusto 175 mil van drive è l'indirizzo giusto e adesso continuiamo con la musica arrivano le muse del mediterraneo ed abbiamo ascoltato le muse del mediterraneo con la canzone ritmo del sud ebbene sì stanno veramente arrivando qui a toronto perché vi devo ricordare che parteciperanno alla cinden staranta the woman of taranta ovviamente musiche veramente energetiche dalla puglia dalla calabria e da napoli con pietra monte corvino le muse del mediterraneo e l'orchestra del sud due spettacoli al mississaga italfest il 9 agosto e al woodbridge rotary club rib fest il 10 di agosto ricordo che cinden staranta è sponsorizzata da icil saving e adesso cari amici torniamo alla musica italiana alle ore 11 e 36 minuti con la canzone contromano a cantarla neck ed abbiamo ascoltato i modà con la canzone tappeto di fragole ebbene sì ci vorrebbe proprio un bel tappeto di fragole siamo anche nella stagione giusta ebbene sì io vi devo ricordare maurizio all'interno della terza ora insieme che giunge quasi al termine mi trovo dagli amici di grande cheese esattamente al centosettantacinque di milvan drive zona di dynesview e weston road nella sede originale di gran c di grande cheese oggi ricordo con ogni minima spesa di 60 dollari riceverete una ricotta di 400 grammi in omaggio ed inoltre udite udite la prima persona che verrà qui da me a trovarmi e mi dirà chi è l'attuale allenatore della milan in questo momento gli darò subito due biglietti per la partita milan olimpiacos che si giocheranno appunto giovedì 24 alle ore 8 chi è l'allenatore del milan la prima persona che viene da me io gli darò due biglietti gratis ed inoltre vi ricordo che qui il barbecue sta funzionando alla grande ci sono tante salsicce costolette anche gli spiedini di amiello c'è una coda chilometrica direi vero peter sto vedendo tantissima gente già in coda quindi venite a trovarci e dopo il panino magari vi fermate anche per parlare con noi e per un ben caffè espresso e ricordo abbiamo anche le rose le rose per tutte le signore gentilmente offerte da cattolica flowers per ogni esigenza 416 747 9525 tantissime offerte qui da grande cheese come sempre formaggio fresco grande 2 per 12 dollari i passiti grande 4 per soli 12 dollari ricotta grande cheese da 650 grammi 2 per 9 dollari e il fior di latte marca grande 3 99 la confezione e per gli amanti dei bocconcini bocconcini grande da mezzo chilo solamente 5 99 questo è tantissimo altro qui da grande le cheese alla 175 di mil van drive venite venite a trovarci e adesso continuiamo con la musica arriva noemi luca carboni insieme a giovanotti ci vuole un fisico bestiale ad aprire questa quarta ora insieme insieme a maurizio da una parte insieme a fernanda da un'altra parte come avete ascoltato da stamattina alle ore nove siamo in duplice trasferta io mi trovo dagli amici di grande cheese esattamente al 175 di mil van drive zona di dunes view e western road nella sede originale di grande cheese è oggi grande festa dei prodotti grande cheese e per i grandi risparmi tutto grande qua grande negozio grandi risparmi grandi mangiate grande personale grande annunciatore tutto grande ebbene sì oggi ricordo che con una spesa minima di 60 dollari riceverete una ricotta di 400 grammi in tutti i negozi grande cheese degustazioni di tutti i tipi di formaggi pizza prosciutto tiramisù la pasta ebbene sì siamo all'ora di pranzo quindi il barbecue sta funzionando già da qualche ora con salsicce al barbecue le costolette anche gli spiedini di agnello quindi venite a trovarci anche perché dovete approfittare delle strepitose offerte per esempio sulla pasta federici dall'italia 500 grammi oggi la pagherete solamente 79 centesimi oppure il caffè lavazza confezione da un chilo solamente 16 e 99 inoltre c'è anche la pasta loro hanno la pasta senza glutine marca di aldi confezione di 500 grammi solamente a 3 99 al pacco poi ci sono i pomodori italiani del menù pomodorina in barattolo 3 e 99 anziché 6 e 49 quindi ottimo sconto inoltre c'è il grande grana 9 99 la libra e le costolette di maiale affumicate del fresh per soli 4 e 99 la inoltre il formaggio boulder sun per soli 7 e 99 l'uno invece di 11 e 99 veramente incredibile inoltre ricordo la pizza party size che potete ordinare telefonando al 416 740 88 33 ed inoltre vi ricordo che grande cheese è veramente un grande negozio per risparmiare per ottenere prodotti di prima qualità il nome giusto è senza dubbio grande cheese esattamente al 175 di mil van drive zona di dinesview e western road nella sede originale venite a trovarci e adesso continuiamo con la musica italiana arriva lui cesare cremonini ed abbiamo ascoltato pago con la canzone il sole è di tutti e prima gianna nannini con foto romanza parliamo un secondino di calcio mercato ebbene si juan quadrado il forte esterno d'attacco colombiano della fiorentina è al centro di un'asta fra barcellona e buyer monaco a son di milioni ebbene sì nonostante il presidente della fiorentina andrea della valle ha detto ieri cercherò di trattenerlo a tutti i costi a firenze ma non sarà affatto facile oggi è arrivata la prima offerta per quanto riguarda il barcellona che avrebbe offerto 42 milioni di euro per il cartellino dell'esterno colombiano ma il buyer non si dà per vinto e quindi si sta proprio proponendo una bella asta suon di milioni fra barcellona e buyer monaco per quadrado staremo a vedere come andrà a finire intanto io bisogna passare in questo momento alla musica favolosa italiana arriva lui ero stramazzotti ma prima caro andy un po di pubblicità e abbiamo ascoltato questa bella canzone di alex britti una su un milione ebbene sì di donne ce n'è una su un milione quella le donne giuste diciamo così ebbene sì come avete sentito fernanda si trova in una bella postazione esattamente da greystextiles dall'amica letizia che abbraccio e saluto e io mi trovo invece da grande cheese esattamente al 175 di milvan drive zona di dice view e weston per per approfittare delle numerose offerte come sempre grande cheese offre a tutta la comunità italiana e non solo da tantissimi anni inoltre il barbecue è bello caldo tanta gente sta venendo ad assaggiare le salsicce le costolette gli spiedini di agnello che stanno cuocendo sul barbecue quindi buon appetito per chi mangia adesso sono le ore 12 e 35 ricordo da grande cheese l'appuntamento al 175 di milvan drive zona di dice view e weston e adesso continuiamo con la musica ebbene sì arrivano i rione junno e lo avete riconosciuto senza dubbio tutti antonello venditti con questa splendida canzone benvenuti in paradiso e a proposito di paradiso noi oggi insieme a cin radio siamo in due paradisi bellissimi fernanda si trova nel paradiso di greystextiles e io mi trovo nel paradiso di grande cheese esattamente alla 175 di milvan drive zona di dynesview e weston nella sede originale di grande cheese per approfittare dei tantissimi tantissimi prodotti in offerta oggi ricordo che con ogni minima spesa di 60 dollari riceverete una ricotta di 400 grammi in omaggio inoltre venite perché il barbecue sta funzionando a pieno regime ci sono tanta gente c'è una coda chilometrica fuori qui dal grande cheese tutti ha in coda per assaggiare le salsicce oppure le costolette o gli spiedini di agnello cucinati da tony al barbecue quindi venite a trovarci inoltre ricordo che per ogni spesa pari o superiore a 90 dollari riceverete due biglietti per milan olimpiacos giovedì 24 alle ore 8 al bim of field ultimi due biglietti rimasti quindi il primo che verrà a mostrarmi lo scontrino si assicurerà questi due biglietti inoltre ricordo i grandissimi grandissimi special di questa giornata il formaggio fresco grande due per 12 dollari oppure passiti grande quattro per soli 12 dollari la ricotta grande cheese da 650 grammi che tutti voi conoscete due per soli 9 dollari e poi il fior di latte grande 3 99 la confezione ci sono anche i bocconcini grande da mezzo chilo solamente 5 e 99 inoltre ricordo la favolosa pizza party size che potete ordinare in tutti i negozi grandi e cheese escluso il negozio di orfus road 19 e 99 con tre toppings e 40 fette a disposizione oppure la pizza al metro la pizza bene sì di un metro con tre toppings la riceverete la potete ordinare la pagherete solamente 34 e 99 vi ricordo ordinatela adesso proprio adesso al 416 740 8883 e quindi io vi rinnovo la giornata è bellissima quindi venite qui a trovarci da grande cheese esattamente al 175 di mil van drive nella sede originale e adesso continuiamo con la musica arriva marco calviari con la canzone l'italiano e abbiamo ascoltato marco calviari con la canzone l'italiano ebbene sì per quanto vi riguarda siamo giunti alla conclusione della quarta ora insieme è arrivata che ti e gli do un caldo buongiorno buon pomeriggio caracchetti sempre in splendida forma come sempre devo dire quindi vi farà compagnia fino alle ore 17 vi raccomando ok quindi io devo ringraziare il fantastico personale di grande cheese veramente molto gentile e un grazie alla cara fernanda e agli amici di grestex styles e quindi adesso io vorrei chiudere con una canzone gigi d'alessio che vorrei dedicare a peter miele perché si chiama miele questa canzone quindi un buon weekend da parte di maurizio veci ci sentiamo prossimamente e a presto gigi d'alessio